Ciao a tutte, allora benvenute io sono Kiteri e non sono proprio la mascotte però oggi vi volevo dire qualche informazione su questo canale è coming soon va bene insomma vorrei dire che su questo canale vorrei fare per esempio create però ne ho altri, cioè ragazzi non vi credete come questo telefono e questo tablet che ho fatto per questo fiore e non solo questi pure come si fanno ad esempio dei collarini questi fiocchetti che ho fatto con gli elastri e una gonna del genere che adesso non trovo e si insomma beh insomma avrete letto che sul tablet si è scritto il JD Cool perché questo non è proprio il mio canale e caricherò solo alcune cose però poi ci sarà un altro canale quindi il titolo di questo video è informazioni è coming soon bene allora io vi volevo dare solo questo avviso quindi spero sia di vostro gardimento il canale il canale sarà domani ciao un saluto da la vostra hiteri